Amaro dolce momento per Edoardo Donnamaria apparentemente ferito dalle dichiarazioni di uno dei suoi migliori amici. Edoardo Donnamaria è uno dei tanti sospesi in questa edizione Big Brother VIP. Una decisione che è avvenuta dopo una serie di richiami e che non gli ha permesso competere per la finale e quindi la vittoria. Una volta fuori casa e dopo pochi giorni di attesa, tuttavia, vide di nuovo Antonella Fiordelisi.i2, dopo i molti momenti difficili a casa, lontano dalle telecamere, sembrerebbero essere più felici e più sereni che mai. Da casa, tuttavia, Edoardo è stato anche in grado di assistere a un episodio che lo ha colpito negativamente quando è finito al centro della terribile accusa di un amico. Edoardo Donnamaria, le parole che non si aspettava de Apocalisse Antonella Fiordelisi lasciato il più spia in casa in Italia poco più di una settimana fa recentemente pubblicato le sue prime dichiarazioni.Durante un'intervista a Sofico Degoni e il suo solito appuntamento con casa chi fatto alcune rivelazioni inaspettate.in dettaglio, detto cosa accadrà quando tutti i geffini saranno fuori ed escluso la possibilità di una cena amico l'incorvaia Edoardo Tavassi. Ciò non solo dovuto ai loro contrasti, ma apparentemente anche per volere dello stesso Donnamaria.a questo proposito, l'ex geffina ha effettivamente rivelato, Tavassi sta esagerando un po' e Edoardo rimasto deluso.ama Tavassi e sentirlo dire che Edoardo a suo agio con me non stato bello. Antonella ha aggiunto tuttavia che secondo lei i due potranno chiarire si preoccupa molto di Tavassi, quindi penso che chiariranno nell'fine. GF VIP, la relazione tra Donnamaria e Tavassi gli ultimi sviluppi a casa, i due Edoardo si sono legati molto anche se all'inizio non era facile.la loro relazione è sempre andata oltre a resistito anche fronte ai molti Tavassi e Antonella, la fidanzata Donnamaria.tuttavia, sapendo che Edoardo, una volta fuori, decise non seguire Mikol, il suo ex attuale partner Tavassi, apparentemente fece arrabbiare quest'ultimo. Per questo motivo Tavassi ha deciso fare questa grave insinuazione a Deluso Donnamaria. Una situazione è quindi particolarmente aggrovigliata e i due dovranno affrontare e risolvere una volta saranno fuori di casa quando saranno in grado vedersi lontano dalle telecamere.